Uno spettacolo che ha avuto già un grande successo adesso approda al Teatro Apollo. Vedremo qui quando ci rivolgeremo ad un pubblico lontano 30 metri cosa accadrà e se riusciremo a far arrivare quello che abbiamo realizzato riscrivendo il Don Giovanni o per meglio dire scrivendo quello che accade dopo che Don Giovanni viene condannato all'inferno. Un appuntamento atteso a quello che si terrà al Teatro Apollo il 13 aprile per uno spettacolo che ci porterà oltre i confini letterari. Dottoressa Margiotta, lei è stata scelta attraverso un casting per ricoprire il ruolo e qual è la sua emozione nel ricoprire il ruolo stesso? Come sempre medicatrice, quindi mettiamo un attimo da parte il medico. Sono stata scelta per fare il ruolo della poetessa ma c'è una sorpresa per l'Apollo perché c'è un nuovo ruolo che è quello della mendicante, ma non posso dire più di tanto. Però è stato molto interessante lavorare con loro, con dei professionisti e anche con dei ragazzi che fanno parte del DSM di Lecce ed è stato veramente interessante riuscire a lavorare con loro e vedere la loro crescita vicino a noi altri. Il Ronzio delle Vedove è uno spettacolo scritto a più umani da una squadra unita, da un'appartenenza a uno spirito libero e a una libera ironia. Perché venirlo a vedere? Venirlo a vedere perché è un sequel del Don Giovanni. Ci siamo chiesti cosa accade dopo che un mito muore. Un mito può morire? No, non muore. E allora cosa accade intorno, dopo la storia? Perché condannare all'inferno chi ha troppo amato? È giusto? No, forse non lo è. Salviamo quest'uomo, salviamo chi ama, chi ama veramente.